Una leggenda CIA ha lasciato. Il mondo della tv bolognese dice addio a un'icona. Ma chi era davvero Giancarlo Monari, il volto che per anni ha illuminato i nostri schermi? In una notte silenziosa del 21 marzo 2024, il mondo televisivo ha perso uno dei suoi pilastri. Giancarlo Monari, amato conduttore televisivo, ci ha lasciati all'età di 83 anni. Nato a Modena, ma bolognese di adozione, Monari è stato una figura centrale nei salotti sportivi della televisione locale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni. Condividi nei commenti il tuo ricordo preferito di Giancarlo Monari. Facciamogli un ultimo omaggio insieme. La sua passione per lo sport lo ha portato a essere non solo un conduttore carismatico, ma anche un dirigente sportivo di spicco nel Panathlon Bologna 1957 e presidente dei Gentleman Travels di Trotto. La notizia della sua scomparsa ha scosso non solo il mondo dello sport e della televisione, ma tutti coloro che lo hanno conosciuto e ammirato. Non perderti ulteriori approfondimenti su personaggi che hanno fatto la storia della TV. Iscriviti e attiva la campanella per restare sempre aggiornato. Tanti i messaggi di cordoglio e ricordo, giunti da amici, colleghi e fedeli telespettatori, un coro unanime che testimonia l'impatto di Monari sulla cultura locale e nazionale. La sua eredità continuerà a vivere nei ricordi condivisi e nelle trasmissioni che hanno segnato un'epoca. Questo è tutto per oggi. Grazie per averci seguito.